29 dipendenti dell'Agenzia a partecipazione regionale TESS da 5 mesi non percepiscono lo stipendio, mentre oltre 300 lavoratori della ex Iaco Rossi ancora attendono dal 2009 di essere reimpiegati in altre società a partecipazione pubblica dopo che all'azienda, impegnata nel ramo delle bonifiche ambientali, era stato revocato l'appalto dal commissariato di governo. Ecco perché questa mattina i lavoratori delle due aziende hanno dato vita ad altrettante manifestazioni di protesta davanti Palazzo Santa Lucia nella speranza di essere ricevuti dal governatore della Campania Stefano Caldoro. Non è la prima volta che la sede della giunta regionale viene presidiata dai dipendenti delle due aziende che operano su versanti diversi ma condividono l'interlocutore istituzionale. Avanza crediti per 6 milioni di euro da diversi assessorati della regione la TESS che opera nel campo della promozione del territorio dei comuni vesuviani. I 29 dipendenti chiedono al governo locale lo sblocco dei pagamenti e chiarezza sul loro futuro occupazionale. Un po' più complessa invece la situazione degli operai Iaco Rossi, fino al 2009 impegnati nelle bonifiche ambientali del litorale Domizio Flegreo e dell'Agro Aversano e ora disoccupati ma con 700 euro al mese di ammortizzatori sociali, un beneficio che però durerà fino alla fine del prossimo anno. Perché già ci avevano come sette anni fa di stabilizzarsi con i lavori socialmente utili, tramite la regione ci doveva stabilizzare. Dopo sette anni hanno fatto una ripicca tra l'azienda Iaco Rossi e la regione, ci hanno mandato a casa tutte e 380 e stiamo qui da un anno e mezzo in mobilità. Tra cui c'è stato un fatto strano in effetti. Prima con il governo di sinistra, che ci comandava la sinistra, c'erano quasi impiegati, avevano diviso fra la STIR e l'ARPAC, molti servizi. Poi con l'evento di Caldoro hanno cercato di fare dei nuovi progetti. Dai nuovi progetti hanno messo sia l'assessore all'ambiente, sia l'assessore al lavoro, si sono messi d'accordo a fare degli ammortizzatori, con il nostro aiuto hanno fatto dei progetti. Da aprile questi progetti sono fermati, però Caldoro non si è fatto sentire più.